Esattamente, esattamente anche la donna ricca, soprattutto, forse ancora di più la donna ricca. Io ho una mia amica di cui anche qui, voglio dire, non posso fare nomi, ma perché sennò poi la cito sempre. Al primo appuntamento le ha chiesto di sposarla, quindi ci sono quelli che si sono buttati subito e quelli che ancora ci stanno pensando. Insomma, Alessandro Benetton non è che ci stia pensando, molto chiuso, molto timido, molto, come dire, rarefatto. E improvvisamente aveva avuto tante storie, molto, come dire, rarefatto. E improvvisamente aveva avuto tante storie, tante storie anche con dare da nessuna parte. Mi vesto sempre da sera. Ma questo suo libro fa un po' tremare le sale? Sempre da sera. Ma questo suo libro fa un po' tremare le sale dei consigli di amministrazione? Ha fatto un po' tremare, tant'è che ha avuto un po' di scessitudini, fre, però in maniera equilibrata. Lei voleva fare da picco a giornalista? No, la stilista. In maniera equilibrata. Lei voleva fare da picco a giornalista? No, la stilista. Infatti ho detto che ha quante borse a casa? Tantissime. Quante scarpe? 60. Quante scarpe? 60, o 300 paglia di scarpe. Ho quattro armadi, tutti di vestiti, vestiti di tutti i tipi. Guattro armadi. Tantissime.